da quando ne ho memoria ho sempre avuto paura di tutto tanto che fino a sei anni non mi addormentavo se mia madre non era lì a fianco a me crescendo ho capito che non avevo paura di tutto ma che avevo paura di essere umano questo conflitto unito anche a un profondo senso di noia noia verso la routine il doversi mettere maschere avere a che fare con le persone ci spinge a cercare nuovi stimoli e anche nuovi luoghi grazie a tutti Grazie a tutti.